Dopo cinque sconfitte consecutive, l'appunto del Sala Consilina ritorna alla vittoria vincendo in casa il difficilissimo match con la Ben Grovigo. 3-0 il risultato della gara, sempre condotta dalle ragazze salesi. Con i tre punti conquistati, Sala Consilina abbandona l'ultimo posto in classifica e si rilancia nella corsa salvezza. Le Cicognini hanno giocato un ottimo match, molto importante, è risultato l'apporto del neoacquisto Kulikova. L'ex campionessa del mondo nelle fasi cruciali della gara ha messo in campo tutta la propria esperienza, ma tutto il roster si è comportato bene. Nel primo set Sala Consilina inizia molto bene il match, la squadra di casa entra in campo con tantissima determinazione così le Cicognine si portano subito in avanti. Grovigo soffre il gioco della puntata al perfetta nelle fasi iniziali in ogni reparto, alla fine Sala Consilina vince il primo set per 25-16. Nella seconda frazione Rovigo ha una reazione, il risultato resta sempre in parità. Le due compagini si equivalgono, si gioca punto a punto ed il punteggio è sempre in bilico. Nella finale di set la puntata al pigia sull'acceleratore e sorpassa Rovigo, seppur di soli due punti. I supporter biancorossi si fanno sentire ed accompagnano alla vittoria del set la puntata al per 25-22. Nel decisivo terzo set si riparte, la squadra di casa è subito in avanti. Le venete giallonere non mollano, vogliono rimanere assolutamente in partita. I due sestetti regalano spettacolo con scambi lunghissimi e bellissimi. Le ultime palle giocate sono al cardiopalma. Si va ai vantaggi e alla fine vince Sala con Silina il 7 alla partita con il parziale di 27-25.